E io sono in compagnia di Lucky! E' la sua mamma, Michela Vittoria Brambilla, perché riparte da domenica alle 10.50, la quarta edizione, dalla parte degli animali, meno male che ci sei, guarda! Siamo tutti dalla parte degli animali, dimmi un po' di chicche, visto che riparte il 12. Noi ogni domenica mattina, Barbara, terremo compagnia alle famiglie italiane con delle storie bellissime, perché dalla parte degli animali è un programma che parla d'amore, il grande amore che lega tutti noi ai nostri piccoli amici, il legame che si instaura, ci sono storie bellissime, emozionanti, che commuovono, che fanno piangere, che fanno ridere, e poi soprattutto troviamo casa ai tanti trovatelli dei cani e dei gattilli d'Italia. E Barbara, abbiamo cani, gatti in adozione, ma anche caprezze, agnellini, maialini, conigli, tutti animali sfortunati che si meritano una nuova vita. E se siamo alla quarta edizione, è perché il vero miracolo lo fanno i telespettatori che ci seguono, che danno casa a questi animali e i nostri messaggi animalisti, quindi passano per tutta la trasmissione e contribuiamo a creare questa nuova coscienza di amore, di rispetto per tutti gli animali e per i loro diritti, di cui anche tu sei sempre interprete. Prima linea per forza è il minimo che io possa fare. Allora, domenica per il quarto anno, 12 gennaio alle 10.50, dalla parte dei nostri amici animali. Su Rete4 dopo la messa. Su Rete4 dopo la messa. E quindi una cosa bella. E ci sarà anche Laki. Ciao Laki, Laki, dico il cuore. Laki, dico il cuore, vado là. E dire, perché lui ti dirà tutti i soldi. Ci vediamo domani, Laki. Ciao, Laki, con il cuore. Grazie.